ciao amici siete spesso stressati o sotto pressione la mia pressione di solito nella norma 80 120 non parlo di pressione arteriosa ma di quando ci si sente schiacciati lavoro famiglia scuola imprevisti notizie negative possono generare stress un po di tensione nei momenti opportuni è utile fisiologica ma se diventa costante può avere effetti negativi anche sulla bellezza del viso come vediamo insieme sei cose che succedono al viso sotto stress e come evitarle se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 pelle grassa quando si è agitati anche la sudorazione aumenta e la pelle si fa grassa e puntuosa sebo e sudore sono difese automatiche dell'organismo ma non sempre piacevoli 2 invecchiamento precoce con il cortisolo le ansie incrementano la produzione di cortisolo l'ormone dello stress il cortisolo liberando i radicali liberi accelera il processo di invecchiamento cutaneo quindi benvenute tecniche antistress soprattutto la meditazione mindfulness amici se vi interessa questo argomento ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra 3 micro scosse i pensieri non viaggiano solo nella nostra mente ma hanno anche effetti fisici ogni pensiero dà origine a impulsi elettrici che dal cervello percorrono i nervi nei momenti di stress queste micro scosse aumentano in intensità e quantità contribuendo all'invecchiamento della pelle e alla formazione delle rughe 4 irrigidimento muscolare restringimento dei vasi sanguigni capelli fragili quanta roba le ansie determinano un irrigidimento muscolare che a sua volta restringe i vasi sanguigni con un minore apporto di ossigeno e sangue ai tessuti cutanei che catena di sant'antonio sì e non finisce qui il minore apporto di sangue a effetti non solo sulla carnagione ma anche sui capelli che diventano più fragili sottili e tendono a cadere prima del tempo 5 ripartire da sé stessi significa concederci spazi di relax e libertà a curare il corpo coccolarci non sempre possiamo eliminare lo stress ma possiamo agire su di noi ad esempio con la mindfulness che è molto efficace contro lo stress vi ricordo che tengo corsi di mindfulness trovate il link al mio sito in descrizione ma cosa devo fare per la bellezza del mio viso semplice con la tecnica naturale al 100 per cento per ringiovanire il viso senza chimica né chirurgia dieci anni in meno in poco tempo vi sembra poco mi raccomando restate connessi e se volete essere avvisati di tutti i miei video soprattutto quando uscirà il video corso iscrivetevi al canale e attivate le notifiche nel frattempo condividete questo video può essere utile anche ai vostri amici e alle vostre amiche vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali